Ultimo allenamento a porte aperte per l'Avellino che da domani chiuderà i cancelli e si proietterà alla sfida di domenica contro il Picerno. Ancora osservato speciale Lorenzo Sgarbi che ha rimediato la frattura al mignolo della mano destra e che non salterà la prossima gara in attesa di capire come reagirà l'arto e se sfortunatamente dovrà poi operarsi. Insieme a lui e agli ordini del professore Pietro Laporta anche Tito Ecconec e curiosamente in una prima fase anche Jacopo Dall'Oglio. Il centrocampista ha arrancato nella corsa a causa di un fastidio al flessore che lo ha costretto a fermarsi a colloquiale con il medico. Per il resto buon feeling per Benedetti, Regione e Falbo. Quest'ultimo è arruolabile così come i due difensori seppure bisognerà capire chi ha realmente minuti nelle gambe. Difficile basandosi sulla realtà che possano essere decisivi o cambiare gli assetti della sfida di domenica. Più semplice che vedano banalmente il campo e che possano trovare spazio nell'interessante sfida di Coppa del 29. In fondo, dopo la sconfitta casalinga, la partita di domenica assume senza dubbio un significato più importante. Picerno non può e non deve essere il teatro delle prove, dei rischi e soprattutto si spera di un altro passo falso.